Scontri familiari. Uno che arriva a fare una cosa del genere è un pazzo, geloso, vendicativo. Dispute economiche. Lei spendeva troppo, non si rendeva conto. Vecchi rancori. Mente e ha sempre mentito. Così controversi che per risolverli rimane solo un modo. Cosa mi cichi in giudizio così senza dirmi niente? Una nuova serie che ricostruisce vere storie di conflitti e tribunali. Affari legali. In prima visione assoluta da lunedì 18 aprile alle 14.15 su TV8. Grazie.